buongiorno e benvenuti a stampiamo avanti tg abbiamo ai nostri microfoni marco vanzini direttore commerciale di mimaki bonpan textile intanto chiediamo a marco vanzini di introdurci la divisione mimaki textile l'azienda come strutturata sì buongiorno alexia intanto la ringrazio per questa intervista mimaki tempo fa ha deciso di dare un focus particolare al settore tessile proprio perché ha delle caratteristiche della stampa digitale differenti da quelle che possono essere altre applicazioni quali sono le tecnologie su cui vi state focalizzando in questo momento beh mimaki da sempre è stata uno specialista della stampa sublimatica che si è rilevata comunque una scelta vincente in quanto attualmente che ha un tema molto caldo che però come dire da noi già sviluppato da tempo è quella della sostenibilità quindi stampa sublimatica in pratica significa stampare senza utilizzo dell'acqua con un minimo uso delle risorse e per quanto riguarda macchine che avete lanciato in questo ultimo periodo allora da un punto di vista di lancio di nuove tecnologie perché nuove tecnologie si parla sempre di combinazioni di applicazioni di inchiostri quindi di chimica con tecnologie di stampa digitale l'evoluzione ormai non è più una rivoluzione è un'evoluzione della specie quindi bisogna essere attenti al miglioramento anche nei dettagli minimi per lo sviluppo del prodotto per esempio è la nostra nuova uscita la ts 330 che è una plot di stampa sublimatico leader nella sua categoria in italia sia nelle vendite che nel nelle applicazioni in quanto è frutto di miglioramenti ma proprio da quali nascosti c'è un irrigidimento della struttura del 50 per 100 che significa più precisione nella stampa a miglioramenti nella tecnologia nell'intelligenza dell'utilizzo delle gocce per minimizzare gli effetti di dithering quindi c'è l'utilizzo di take up della carta più potenti più precisi quindi è un misto di elettronica hardware sistema che alla fine tante piccole cose messe insieme fanno comunque macchinari totalmente diversi quindi tutti tutte implementazioni che aiutano comunque il cliente essere più efficiente a raggiungere i suoi gli obiettivi anche in termini poi di sostenibilità e di applicazioni parlando di applicazioni quali sono le applicazioni a cui sono dedicate le vostre macchine sono veramente tante bene allora intanto il focus stampa sublimatica e anche stampa pigmento dove stiamo avanzando molto velocemente una tecnologia che abbiamo messo sul mercato una decina di anni fa quindi non può essere considerata nuova però è vero che il mercato ora è più pronto a rispondere e accettare questa tecnologia per la stampa di abbigliamento perché il gap che era da colmare per la sostenibilità era stampa sublimatica stampiamo sul poliestere senza acqua la stampa sulle fibre naturali come la sviluppiamo perché stampare con i rettivi con gli acidi significa un utilizzo molto elevato di risorse quali l'acqua che poi anche lì bisogna sfrattare dei miti perché si parla di sostenibilità ci si riempie la bocca però in italia per esempio quando si parla di stampa con i colori reattivi acidi l'acqua viene riciclata quindi non c'è un effettivo consumo cioè il consumo della stessa è minimo cioè il vero problema sono altri infatti e altri quando parliamo di altri si parla di un vero printing on demand print on demand significa cosa non più fare delle collezioni come per esempio fanno zara e tanti altri h&m che sviluppano collezioni poi buttano via il 50 per cento della produzione perché non è venduto questo è un grande problema e questo è il problema da risolvere quindi bisogna sviluppare dei modelli di software e di hardware che permettono al meglio di avanzare con ed essere rendere possibile il vero printing on demand per esempio noi abbiamo sviluppato assieme delle case di software anche israeliane un interfacciamento dei nostri sistemi con sistemi evoluti di printing on demand quindi dal plugin che funziona sul sito di commerce del cliente al nesting dei disegni da stampare pronto per essere stampato immediatamente con i nostri plotter e quindi è questa integrazione che è molto importante quindi la vera scelta ecologica anche il printing on demand e quali sono le strategie ad esempio si parla tanto di reshoring quindi di far rientrare un po le produzioni più vicino al al punto di vendita quindi anche in questo senso agevolare il fatto cioè la stampa digitale e la stampa che avete sviluppato voi queste soluzioni non solo macchine aiutano proprio il cliente a veramente stampare on demand e ad avvicinare quindi anche questo crea un un circolo virtuoso su per quanto riguarda la sostenibilità rishoring è importante importante per moltissimi aspetti che va da quello occupazionale a quello energetico perché comunque non scordiamoci che il 10 per cento dei consumi e delle emissioni di co2 sono fatti per i trasporti via nave quindi è molto importante rishoring ma al contempo il rishoring è una bella speranza ma non tanto possibile e mi spiego perché perché quando parliamo di tessile abbigliamento rishoring significa non solo stampare localmente cosa che a me fa molto piacere chiaramente ma anche no perché siamo una multinazionale quindi nostri prodotti li vendiamo tutto il mondo ma il problema poi confezionare cioè trovare la mano d'opera per confezionare i milioni miliardi di capi che vengono fabbricati in asia è impossibile quali sono invece le vostre strategie future le vostre prospettive nel breve medio termine allora sicuramente comunque il printing on demand quello vero parliamo non quello che ogni tanto ci si riempie la bocca è una corrente impetuosa che si sta sviluppando moltissimo i nostri quindi mi macchi comunque continuano ad appoggiare questo tipo di stampa questo tipo di sviluppo del mercato e di connessione tra vari sistemi e il nostro tipo di plotter che quindi essendo plotter molto flessibili ma anche potenti rispondono al meglio su questa cosa quindi mi macchi cosa fa persegue comunque l'efficienza di stampa con il migliore qualità produttiva che significa meno errori di stampa possibilità di stampare senza operatori in notturna riduzione dei costi anche perché comunque abbiamo immesso dei sistemi siamo gli unici che nei plotter di media categoria abbiamo messo i sistemi di tannica 10 kg che permettono appunto abbondanti risparmi sui costi degli inchiostri e questo è importante sicuramente questo l'efficienza e la riduzione dei costi è un tema molto caldo e molto importante e ringraziamo marco vanzini per essere stato con noi e continuate a seguirci su stampiamo avanti tg grazie all'elex